13 morti, 5 persone ferite, il bilancio dell'esplosione di una bomba nella provincia di Kandahari in Afghanistan, la deflagrazione avvenuta al passaggio di un camion su cui viaggiavano tutti i civili. Si tratta del primo grave attentato nel paese dopo le presidenziali di sabato. I taleban, che avevano promesso il caos durante il voto, non hanno rivendicato l'attacco.